Mafia sequestrata a Palermo una rivendita di tabacchi riconducibile al boss Salvatorello Piccolo. C'è l'accordo per la formazione professionale in Sicilia firmato in preliminare. Depositate le motivazioni della Cassazione, Cuffaro resta in carcere perché non collaborò con i magistrati. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews oggi è venerdì 17 ottobre. Come avete sentito nei titoli apriamo con la mafia sequestrata a Palermo una rivendita di tabacchi riconducibile al boss di San Lorenzo Salvatore Lopiccolo. Il boss Salvatore Lopiccolo aveva investito del denaro anche nel commercio di tabacchi a Palermo. La guardia di finanza ha sequestrato la seconda rivendita riconducibile al capo mafia di San Lorenzo insieme a due appartamenti, un magazzino e disponibilità finanziarie che apparterrebbero al boss. Il tutto per un valore di 1 milione e 200 mila euro. Lopiccolo, 72 anni, fu arrestato nel 2008 con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'attuale provvedimento trae origine dallo sviluppo di ulteriori attività di indagine e riguarda una tabaccheria in via Torretta a Sferracavallo. Secondo gli inquirenti la rivendita sarebbe solo formalmente intestata ad una donna. Dagli accertamenti bancari è emerso infatti che il denaro utilizzato per l'acquisto era stato versato in contanti di dubbia provenienza. Al resto hanno contribuito le indagini che hanno scoperto un'assidua frequentazione tra la donna e i familiari di Lopiccolo. C'è l'accordo per la formazione professionale in Sicilia. È stato firmato il preliminare tra enti sindacati a regione. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla formazione Nelliscilabra. In poco meno di dieci giorni abbiamo già fatto mandati per circa 15 milioni di euro, ha spiegato, e contiamo di arrivare velocemente a 130 milioni come promesso due settimane fa. Si va verso la fine dell'emergenza stipendi. Inoltre gli enti si sono impegnati a stoppare tutte le procedure di licenziamento per il piano giovane, ha aggiunto la Scilabra, abbiamo trovato alti 3 milioni di euro e dunque la prossima settimana faremo il bando per complessivi 1.400 posti. Svegliatevi, la Sicilia affonda. Con questo slogan, domani la Cisla scende in piazza contro il governo Crocetta. Svegliatevi, Crocetta ha fallito e la Sicilia affonda. Quanto scrive su Cisla Sicilia.it Maurizio Bernava, segretario regionale Cisla, alla vigilia della mobilitazione che domani vedrà il sindacato portare in piazza indipendenza a Palermo davanti Palazzo d'Orlean, sede della presidenza della regione siciliana, migliaia di persone che arriveranno nel capoluogo da tutta l'isola. Il governo Crocetta ha fallito, sostiene la Cisla, per le stesse ragioni per cui fallì Lombardo per non avere messo al centro strategie e strumenti per uscire dalla crisi. Così la Sicilia affonda, come riprovano tutti gli indicatori, a cominciare dal fatto che, conto 1.350.000 occupati, dovrebbe averne 2,3 milioni. E alla luce, tra l'altro, della contrazione costante del numero di imprese attive che dal 2008 a ora si è ridotto di quasi 21.000 unità. E il trend non muta, con il conseguente calo pure delle entrate erariali per le casse regionali, afferma il sindacato, per il quale la vera priorità è il lavoro che manca. La Sicilia è schiacciata da una triplice emergenza economica, sociale e amministrativa. È ora di dare la sveglia a politica e governo. La nostra protesta, rimarca il sindacato, vuole essere una sollecitazione, perché nonostante l'emergenza per il disastro che Crocetta e compagni hanno combinato dopo decenni di assalto alla spesa pubblica e debiti senza limiti, non è stato fatto nulla per governare la crisi e gli effetti della crisi economica e sociale. Smentito il sospetto caso di ebola a Palermo, dopo accurati i controlli medici al Buccheri Laferla, è stato accertato che non c'è alcun allarme. Paura ieri a Palermo per un sospetto caso di ebola, poi assolutamente smentito. Un turista francese giunto in Sicilia da Genova con la moglie si è presentato all'ospedale Buccheri Laferla accusando febbre alta, sudorazione e mal di gola. L'uomo, 48 anni, lo scorso 20 settembre, era tornato da un viaggio in Togo. È stato immediatamente sottoposto al protocollo anti-ebola. È stato posto dunque in isolamento in una stanza del reparto di medicina, trattato dai sanitari con tutte le precauzioni previste dal Ministero. È subito iniziato un consulto telefonico con l'ospedale Spallanzani di Roma, unica struttura autorizzata a trattare eventuali casi di ebola in Italia. In realtà però, dopo i vari accertamenti medici, si è scoperto che la febbre non era dovuta a un'infezione da ebola e non è stato neppure necessario spedire i campioni di sangue. I medici hanno dichiarato che si trattava di tubercolosi. Dunque è escluso il peggio. Il tutto è stato confermato anche dall'assessore regionale alla salute, Lucia Borsellino. Le condizioni generali del paziente, avevano spiegato in serata dall'assessorato, non autorizzano nessun allarme. Depositate le motivazioni della Cassazione. L'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro resta in carcere perché non collaborò con i magistrati. Non ha collaborato con i magistrati. Questa è la motivazione per la quale la sentenza ha negato l'affidamento in prova ai servizi sociali all'ex presidente della regione, Salvatore Cuffaro. L'ex governatore attualmente è detenuto con una condanna definitiva per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e rivelazione di segreto istruttorio. Resta in carcere quindi perché non ha collaborato con i PM e soprattutto perché non fece i nomi di chi dall'interno delle istituzioni forniva le informazioni riservate ma utili ad aiutare il boss di Brancaccio Giuseppe Guttadauro che in tal modo riusciva a sottarsi alle indagini. Depositate oggi le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 3 ottobre che si è conclusa con il rigetto del ricorso di Cuffaro difeso dall'avvocato Maria Brucale. La finanza intanto indagga sul patrimonio di famiglia passate al setaccio i suoi beni intestate a lui e i suoi familiari o in ogni caso all'urriconducibile allo scopo di scoprire se c'è una sperequazione tra l'effettiva capacità del suo reddito e il patrimonio che ha accumulato. Ferrovie e trasporto carente il contratto di servizio sia occasione per migliorare l'offerta. La FIT CIS chiede alla regione di stabilire subito i servizi sulla base del criterio di qualità. Treni insufficienti, la desertificazione delle zone centrali e sudorientali la sovrapposizione bus treno, l'insufficienza del parco rotabile le soppressioni giornaliere, i tempi lunghi di percorrenza e il quadro della situazione del trasporto ferroviario in Sicilia dove circolano 397 treni giornalieri su 1.378 km di linea ferrata per una regione che è la più stessa d'Italia e con un perimetro di oltre 1.000 km risulta decisamente insufficiente. Il contratto di servizio deve diventare un'occasione per migliorare e razionalizzare il servizio ferroviario. Ne vogliamo discutere in un tavolo che sollecitiamo alla regione con Trenitalia. Lo hanno ribadito i rappresentanti della FIT CIS. Dopo il trasferimento alla regione dei compiti di programmazione e amministrazione relativi ai servizi ferroviari, accordo sul quale si attende la firma finale del MEF per sbloccare i 111 milioni di euro annunciati, il governo regionale deve essere pronto con la bozza del contratto da firmare con Trenitalia. Secondo il sindacato occorre un'inversione di rotta per i pendolari, investendo sull'ampliamento del parco rotabile in tempi brevi e potenziare i collegamenti specifici da e per gli aeroporti Birgi, Puntaraisi, Fontana Rossa e Comiso, l'integrazione ferrogomma in tutte le nuove città e l'integrazione tariffaria. Movida Selvaggia a Palermo, firmata la nuova ordinanza, torna lo stop alla musica alle ore 24. Arriva la nuova ordinanza sulla Movida palermitana. Il sindaco Leluco Orlando ha firmato un nuovo provvedimento che stabilisce fino al 31 dicembre lo stop alla musica a mezzanotte e a luna, il venerdì, il sabato e i prefestivi. La decisione è giunta a seguito della pioggia di esposti presentati ai vigili urbani dai residenti sempre più esasperati a causa del rumore notturno. E così il primo cittadino e l'assessore delle attività produttive, Giovanna Marano, hanno deciso di riproporre le limitazioni che sono state in vigore per tutta l'estate. Il provvedimento, spiega il sindaco, serve a garantire la vivibilità dei residenti in quei quartieri dove è maggiore la concentrazione di locali aperti nelle ore notturne, come Vuciria, Magione, Candelaia e Olivella, coniugandola con il rispetto dei diritti degli operatori economici. L'ordinanza prevede anche il tetto dei 70 decibel all'esterno fino alle 22 e dei 60 dalle 22 in poi, e il divieto di vendita di bibite d'asporto in vetro o lattina dopo le ore 24. Unica deroga prevista per il 31 dicembre, si potrà tenere la musica alta fino alle 3 del mattino. I gestori dei pubblici esercizi dovranno inoltre assicurare la pulizia delle proprie aree, non collocare distributori automatici alla spina all'esterno e pubblicizzare offerte speciali sugli alcolici dopo le 22. Apprezziamo il gesto del sindaco Orlando che ha firmato l'ordinanza sulla movida in attesa dell'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale, ma sarebbe necessario, ha dichiarato Nunzio Reina, presidente di Confartigenato Palermo, che il documento prendesse in considerazione anche le discoteche attualmente penalizzate. Sottoporle allo stesso regolamento, che vale per i pub, vuol dire infatti danneggiarle e non tutelare questo tipo di attività. Ogni sconfitta lascia la mare in bocca, ma sono felicissimo di avere partecipato, dando così un grande impulso allo sport cittadino che nel giro di un anno ha visto crescere in maniera esponenziale il numero di manifestazioni di alto e medio livello. Lo ha detto l'assessore allo sport, Cesare Lapiana, commentando il verdetto dell'Access Europe, l'associazione delle capitali e città europee per lo sport, che ha segnato a Praga il titolo di capitale dello sport 2016. Non aver centrato l'obiettivo, ha detto Lapiana, non ci toglie l'entusiasmo e per questo continueremo a lavorare come se avessimo vinto. Ci abbiamo provato, siamo contenti di essere arrivati in finale, diciamo che ha vinto il migliore. La polizia di Stato ha identificato e sottoposto a fermo un 21enne palermitano ritenuto il responsabile insieme ad un complice al momento ignoto di due rapine commesse nel giro di pochi giorni e danni di due farmacie della città, una che si trova in Viale Regione Siciliana, l'altra in Via Termini Meresi. In entrambi i casi i due rapinatori sono entrati in azione armati di pistola e dopo essersi impossessati e il denaro contenuto nel registratore di cassa si sono dileguati. Due colpi che hanno fruttato quasi 2.000 euro nel primo caso e 350 nel secondo a incastrarli le telecamere di videosorveglianza delle farmacie. Dopo una chiusura di un mese riapre oggi il Museo P3 a Palermo in occasione del terzo weekend delle vie dei tesori rendendo fruibile al pubblico numerosi beni etno-antropologici. Si tratta in particolare della serie di pitture su veto di cui il museo conserva 34 esemplari e ancora si potranno ammirare vasi di ceramica provenienti da Caltagirone, cartelloni dell'Opera dei Pupi, il plastico, l'entrata di Re Ruggero a Palermo, il grande dipinto raffigurante, la processione del Santissimo Crocifisso. Tra le novità di questa edizione del Palermo-Rema che si svolgerà domenica prossima nel Golfo di Palermo c'è l'inserimento del Surf Ski Challenge. Queste imbarcazioni permettono una navigazione sicura in mare per le loro fondamentali caratteristiche. Il canoista in particolare è seduto sopra lo scafo su una sede anatomicamente disegnata e ciò permette di evitare l'affondamento ed una facile risalita in caso di ribaltamento. Ascoltiamo Gianni Montagner. Il Surf Ski Challenge è la prima manifestazione ufficiale che viene fatta qui a Palermo per sviluppare questa disciplina del Surf Ski che è un kayak sito on top che da 7-8 anni circa in Italia ha avuto uno sviluppo significativo a livello organizzativo non più organizzato sia a livello di club che di federazione. Recentemente c'è stato il mondiale in Portogallo quindi è una disciplina molto diffusa in tutto il mondo e in Italia si sta sviluppando. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.